Se volete acquistare i crediti FIFA andate nel link in descrizione fifacredits.com Bene ragazzi sono Dario e sono tornato con un nuovo video di FIFA Ed oggi c'è un nuovo pack opening Perché abbiamo una rosa di merda E avete visto le prime due partite ce la siamo guardate abbastanza bene nonostante quella rosa E andiamo a aprire i primi pacchetti Allora Ah il primo pacchetto da 5.000 Ah comunque il che si chiede se perché sto da solo è perché lo sto registrando un altro giorno E che sani che oggi non c'è Quindi è molto ovvia la risposta E vai così Attenzione Oh Dai 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 Vai così Sorbas Vabbè almeno è un portiere europeo che ho veduto Guardiamo Oh quello del coso Quello del Cristo Tullopulos Almeno ci abbiamo anche di sciocci Vabbè preferisco di rimanere con Santy Casorna sinceramente Andiamo con il secondo Ti prego Ti prego Dai Dammi un Ronaldo Un Cristiano Ronaldo Dai E' bloccato Eccolo Forse 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 Ma che è? Ma tutta la Grecia Oh Modric Il primo italiano L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato E' Acerbi Dai così Dai 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 Te vedo Eccolo 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 E' lui Ronaldo Vai Vai Viglia David Viglia Anche se è una S Noi non ci facciamo niente Però vabbè così dai Oxlade Chamberlain Questo cuore una cifra Raga Non è vero 89 Vai Vai Non lo vedo Non lo guardo Non lo guardo Non lo guardo Saltiamo Voi già lo state vedendo Mi sa Raga ma che merda L'hai trovato Iangambiua Ma chi te sei in cula Ti prego Ti prego Ti prego Un giro E vai Che cazzo è? Raga ma chi è Contreras? Ma porco cane Oh Ma che sfiga c'ho Ma scusa La camisa Della Germania Cambia tutto La sfiga o Eh vabbè Me ne dai uno buono? Per favore Per favore me ne dai uno buono? Uno buono Grazie Grazie Mignole Perco due porco Ma me ne dai uno buono? Oh sento di gente Che si è presa Messi e Leonardo In cinque secondi Io trovo Mignole E vabbè Oh Porto da direttatore da aerei Questo Non lo vedete? Ho guadagnato anche il trofeo Però non muo da un giocatore Stronzo Vai Ruiz Però C'è Suncic Che questo si che è Questo si che cambierà tutto Un'altra volta Young Ambigua Mamma mia oh E basta Non ti voglio più vedere Porco cane Oh mamma mia Stoffi tutti i sordi Per ste cazzo De pacchetti De merda C'è neanche io Non abbiamo trovato Che ci serve Dai Saltiamo questo Aopo Stacco due oh Dai Via Giusto Un altro contro Regà non è normale Sta cosa oh Ce l'avrei dovuto Trovare uno forte Dai su Ti prego Ti prego Ne voglio uno Non ti sto a chiedere niente Dai Trovo l'altro Giusto come posto una coppa Dai Tiago Silva Sì però a me mi servono I difensori Non mi servono Quelli dell'America Mi servono quelli della cosa Almeno uno ti avevamo trovato Almeno Tiago Silva Dai Dai Ci avviciniamo sempre di più Sempre di più Sempre di più Sempre di più Vai 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 Ti prego Ti prego Vai così Ci sei Danni Non ci facciamo un cazzo Vai così Sì Perfetto Sì che mi servi tu Eh sì Mi servite tutti Quasi 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 Mi suicido Però regà Poi ci divertiremo Perché abbiamo un sacco Di pacchetti da prisse Attenzione Un altro pacchetto Oggi ci sveniamo Ci sveniamo Sì Voglio svenarmi Perché voglio trovare Cristiano Rolando Vai 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 così Sì Che cazzo è questo Chi è Valeri Ma chi è Io conosco un Valeri solo È un arbitro Chi Chi è Valeri Guarda questo Alvaro Vidalio Eh vabbè Ne avremo ancora un altro Dai 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 Ci sei? Agüero! Quasi quasi non mi faccio la cosa. A sto punto non mi faccio la... Sud America. Pura fellaio. Buono. Avremo altri due. Altri due. E poi finiamo tutto qui. Sì? Che cazzo non è? Raimic. Cioè... Guarda... Basta vedere un faccia per capire tu chi è. E vabbè. Ultimo pacchetto. Vai che poi gli altri ci riteniamo per fare un altro paccomening. Vai così. Ultimo. Me lo sento. Ultimo ma buono. Ultimo ma non per importanza. Ci sei? Sei tu? Vai! Oh, c'hova. Bernard. Buono. Regà. Mi sa che tocca a passi la sudamericana a sto punto. Mi sa proprio di chi, eh. Oh, insigne. Mi l'ho visto. Però non ci facciamo molto. E vabbè. Regà. Che vi posso dire? Anche per oggi è finito questo episodio. Quindi che vi posso dire? Il telefono squilla sempre ai finali dei episodi. È una cosa incredibile. Proprio c'è la puntualità, eh. C'è la puntualità della regia che chiama mentre sta finendo l'episodio. Quindi niente, ci vediamo al prossimo episodio che sarà sicuramente gli ottavi di finale. Perché come avete visto dall'episodio precedente siamo passati. E niente, ci vediamo. Bella.